L'ospedale di Agrigento, la manutenzione interna ed esterna, compresi i parcheggi. L'intervista al manager Salvatore Lucio Ficarra, al microfono di Rene Milisenda. Abbiamo appaltato, anche se sembrerà strano, ma purtroppo abbiamo trovato tutti gli ascensori che sostanzialmente non funzionavano. Per cui questo è stato oggetto di varie polemiche da parte, giustamente, degli utenti e riportate dai mass media in varie forme. Abbiamo dovuto metterci mano, ma purtroppo, nello scusarci con l'utenza, vi ricordiamo che tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo fare tramite gare pubbliche. Per cui questo richiede ovviamente del tempo, ci sono poi ricorsi, ci sono le procedure da seguire e così via. Oggi abbiamo fatto, diciamo, quanto era possibile, considerando che gli ascensori hanno almeno 30 anni. Abbiamo incorso la nuova gara per, oltre che risistemare con manutenzione straordinaria quelli che attualmente ci sono, mettere nuovi quelli che ancora non funzionano, perché spesso abbiamo trovato solo la canna dell'ascensore, poi di dentro non c'era nulla. La stessa cosa si può dire per il blocco operatorio. Abbiamo varato un progetto per la ristrutturazione dell'intero blocco operatorio, che ora sarà totalmente a norma, così come per la ristrutturazione di una serie di locali che ci consentirà di fare ruotare i reparti e metterli su piani omogeni, dalla chirurgia vascolare alla nefrologia, eccetera. Così pure la farmacia ha avuto un intervento di ristrutturazione parziale, sia per il Dipartimento del Farmaco che per la farmacia vera e propria, anche se ancora non è un intervento risolutivo, ma rispetto a quello che si è trovato, diciamo che è anni luce avanti. E così potremmo anche dire dell'acquisto dei ferri chirurgici, che sembrerà banale, ma in un'azienda come la nostra hanno valori superiori a 2-3 milioni di euro. Ora sono stati pure appaltati i lavori per la risistemazione degli spazi esterni, quindi ci sarà un ampliamento del posteggio, e a breve sarà indetta la gara che consentirà all'azienda il controllo di tutta l'area. Considerate che l'ospedale d'Agrigento grava su un'area di circa 20 ettari, cioè sproporzionato rispetto alle necessità dell'ospedale. Un ospedale che è stato accatastato da noi, che prima non esisteva, perché nessuno aveva seguito mai le procedure di accatastamento, e questo ci portava a una serie di problematiche burocratiche che non vi sto qui a raccontare. Ma vi dicevo che da qua a poco verrà appaltato, attraverso un avviso pubblico ovviamente, ci sarà una gara europea, la gestione degli spazi esterni, per cui niente più caos dall'ingresso. Ci saranno due ingressi separati, uno per i nostri mezzi e quelli dei nostri dipendenti, e uno per i mezzi dell'utenza. Ci sarà anche uno spazio libero per chi non vuole avere questo servizio, e con i provventi che avremo rafforzeremo l'area di vigilanza. Ricordo ancora che quando siamo arrivati non c'era nemmeno la portineria notturna, per cui di sera chiunque poteva entrare, uscire e fare quello che riteneva. Non c'era il servizio andingenti, abbiamo istituito il servizio andingenti, per cui in ipotesi ben precise, nel caso in cui si verifica il rischio di un incendio, non dobbiamo aspettare i vigili a fuoco, anche se con i vigili a fuoco esiste una proficua collaborazione, ma c'è l'intervento della squadra interna, che provvede immediatamente al primo intervento. Così come è stata chiusa una convenzione con l'ESA, che a titolo gratuito ci sta mandando in questi giorni gli operai, per la pulitura, scerbatura e ridefinizione degli spazi esterni, che vi ripeto sono, se non sbaglio, di circa 20 ettari, quindi uno spazio enorme che in realtà nel prossimo futuro andrebbe frazionato e per la parte che non ci interessa venduto.